ciao ragazzi sono simone devo fare velocissimo perché me devo andare quindi devo faccio un video di 10 minuti via dovevo andare mannaggia stambul uis ragazzi non c'è eccolo qua ok eccomi qua sono entrati andiamo facciamo tre partite tre partite tre partite andiamo andiamo che così ho imparato delle trick ho imparato dei trick quindi sarò molto forte qua non imparato va bene il trick più facile del mondo è quello della ringhiera invece ho imparato qualcosa quello di andare sui bastoncini quello di andare su questi bastoncini ragazzi questo bug già un bug c'è un bug ma non ti aiuta a risolvere la mappa godo godo vai 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 cavaliere vabbè non ce la faccio non ce la faccio manneggia la miseria prima partita fatta vai seconda ragazzi sto perdendo ragazzi eh ve lo dico ve lo dico ve lo dico oh mio dio pint splash oh my god provoca poi il trucco che odio godo questa è una mappa che odio di più della mia seguente Istanbul guys vai 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 co 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 aio oh mio dio o mio dio ragazzi va bene che cavolo sta succedendo Codo godo no mannaggia devo andare a quello viola poler vera è di merda godo godo ah no ce la vanno l'ho perso yeee godo ahio so dato un calcio incredibile ahio ahio ragazzi ragazzi aspettate continuo il video continuo il video no mannaggia una ruota gratis avevo no 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 una ruota gratis questa la facciamo dai lo troviamo una forte una forte lo trovo in doppione me ne vado oh quella quella la farla un oggetto è sta madonna ragazzi spacco il telefono spacco il telefono madonna mia oh magister united madonna 2 a 0 finalmente fredda segnato sai che forse il magister united non tiene ronaldo raga non tiene ronaldo non ci credo non tiene ronaldo non è può essere che puoi vabbè o salà perché salà è in panchina pure robertson van dick ma perché baia ma questi giocatori sono scasci quelli dell'iverpool anche quelli del manchester united non è che è del manchester united che fa cagare qui sta il palazzo e hanno perso vabbè ritorniamo su stumble guys non è che che ho chiesto andiamo forza miseria andiamo ragazzi mi sta facendo un mal di collo ma incredibilmente forte questo qua quasi oh giungo ro andiamo a me non mi può laggare in nessun modo andiamo aio sono tra i primi sono tra i primi però sono terzo quarto penso che sono si sono quarto quarto no aspetta aspetta è il trucco magico aspetta aspetta siamo alla prima no seconda seconda ole 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 ragazzi veloce 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 e ce la facciamo ce la facciamo gooo godo 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 come un riccio ecco dove sono io eccomi quello che faccio con le manine boi bello vediamo oh dai 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 ma bella ma bella oh vabbè 3 a 0 addirittura ok canon clip comunque oh quella che spara da qua sono forte quindi andiamo questo è che le squalificate sono in otto ragazzi mi si sta bacando col telefono ok andiamo 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 oh 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 godo godo sono secondo guarda aspetta qua eh volevi secondo 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 ragazzi pidrae i poliziotti non andano più a rubare quelli che hanno rubato guarda aspetta con le mani vai 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 andiamo oh qua si può arrivare sono in primi eh sono in primi quindi mi devo concentrare in zitti tutti eh oh no bombardamento qua sono bravo qua sono bravo quindi concentrazione vai oh mi sparano questi oh oh mi sparano questi oh 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 no no mannaggia la palla mi ha buttata fuori spero che il video ci sia piaciuto ciao ciao